Sicuramente è stata una bravata, qualcuno che si è voluto divertire, ma la coincidenza degli eventi ci costringe a rendere pubblica la notizia. Stamattina all'apertura dei locali che ospitano TV Alfa in via Marcotta a Licata, il personale ha trovato una stella di Natale appassita, sistemata in una gabbietta in plastica di colore nero. Ispezionato il regalino che qualcuno ci ha inviato e visto che non c'erano messaggi di tipo intimidatorio, abbiamo sistemato la stella di Natale all'ingresso del palazzo. Stupore abbiamo provato nell'apprendere che lo stesso pacco è stato inviato ai colleghi di Licata Nuova TV, stessa identica stella di Natale appassita con la solita cassetta nera di plastica. Avvisate le forze dell'ordine, crediamo più che altro che si tratti di qualcuno che si sia voluto divertire. E se almeno avesse lasciato il suo indirizzo lo avremmo sicuramente ringraziato per l'omaggio floreale ricevuto, sebbene appassito è sempre un piacere ricevere piante e fiori. A meno che non si tratti di crisantemi che nel linguaggio intimidatorio e criminale hanno un significato particolare e preoccupante.